Caro D'Ariere, nella conferenza stampa di ieri salennitare a Spezzi che avevo intervistato il mio amico Claudio Lottito. Chi è Guariglia? Il Becchino? Da te stamattina che gli ha detto Lottito che il mio cappello Granata come io porto in testa io l'ho inviato per posta a Roma e dice che lui non l'ha ricevuto. Il Becchino? No, non è il regalo. Non è la regalatura? No, no, no. Ma perché dice che gli ha regalato un cappello? No, non so dove è arrivato questo cappello. Quello che ti posso garantire è che adesso ne compro un altro e lo spedisco subito a Claudio Lottito a Roma. Non mi guardo stato.